La vita è simile a un mistero insoluto, un enigma difficilissimo da decifrare e facciamo un esempio un po' come se fossero queste piante, la vita, bloccate, chiuse, che impediscono l'accesso e così se uno vuol sapere deve girarci intorno cercando di capire il significato della vita nel modo più semplice e più naturale vivendola e dalle esperienze cercare di capire cosa significa ognuna di esse e così fare un gradino alla volta girando sempre intorno alla vita per poter vedere, capire in quale modo svelare questo mistero che a volta sembra penetrabile come in questo caso, avere un passaggio ma non si riesce, così si continua a girare pensando di non trovare mai nessuna soluzione, la vita cos'è, che mistero, come dura, come difficile, come amara, come bella, come felice la vita, poi a un certo punto ecco, trovi la soluzione, entri tranquillamente, felice e ti accorgi che la vita è così, è anche sporca, è anche squallida, però ti guardi intorno e vedi al centro le piante e sei al centro delle piante e guardandole ti accorgi solo di una cosa, nel bene e nel male il mistero della vita è uno solo, va vissuta per essere capita e soprattutto capire che la vita è una, va amata e rispettata e anche se non la capiamo fino in fondo, quando arriverà il momento di morire, sapremo con certezza una cosa di aver vissuto, di aver dato il meglio di noi, esprimendo ciò che siamo, sì, perché noi siamo la vita, ed è solo grazie ai tanti cespugli secchi delle brutte o amare esperienze che possiamo poi alla fine dire, ho capito, dovevo solo vivere, e allora anche quando il cielo è coperto direi sempre, sei bello, perché non è solo il sole la vita di ogni giorno, ma lo sono anche le nuvole, i temporali, le tempeste e soprattutto il sorriso che non sappiamo dare alla vita, che comunque sia un meraviglioso sogno, anche se spesso accompagnato da brutti incubi. Grazie vita per averci fatto amare, gioire e anche soffrire, perché in fondo è proprio la sofferenza che spesso ci fa sentire veramente vivi.